Ciao a tutti, benvenuti oppure bentornati sul canale. Visto che ultimamente vi sto portando alcuni video sulle spade laser, non che questa sia una novità per questo canale, ci sono video del genere risalenti a 5-6 anni fa, dopo una piccola ricerca ho pensato di fare questa storia delle spade laser giocattolo. Sostanzialmente vedremo come siamo arrivati oggi a spade di questo tipo. E credetemi, ne vedremo delle belle. Se avete seguito la serie su Netflix, I giocattoli della nostra infanzia, saprete già che i primi giocattoli di Star Wars erano in mano alla Kenner, in seguito divenuta Hasbro. Naturalmente la prima spada laser giocattolo è la loro. Ci tengo a specificare una cosa, parlerò solo di lightsaber con licenza ufficiale, quindi non prenderò in considerazione spade di altri franchise o tarocche. Dunque la prima spada laser giocattolo ufficiale è della Kenner e risale al 1978, un anno dopo l'uscita al cinema di Una Nuova Speranza. Allora non aveva questo titolo, si chiamava semplicemente Star Wars o in Italia Guerre Stellari. Cosa si inventarono i designer della Kenner per ispirarsi alle spade presenti nel primo film? Qualcosa di davvero molto semplice, una torcia elettrica collegata ad una lama in vinile giallo gonfiabile. Vi starete chiedendo perché una spada laser gialla, perché l'action figure Kenner di Luke aveva la spada gialla. E magari vi state ancora chiedendo il perché, non lo so perché, non lo so. Probabilmente c'è stato un errore di produzione, non ne ho idea. Anche se effettivamente la spada laser non è l'unica cosa gialla di Luke. Ma basta parole vi lascio allo spot pubblicitario del 1978 di questa spada laser. It's the new Star Wars lightsaber from Kenner. Inflation required, batteries not included. You can pretend you have powers when you switch on Kenner's Star Wars lightsaber. Ready to feel the force? Yeah! Switch on your Star Wars lightsabers, close your eyes and go! I got it! Me too! Zack, you passed the test! The force is with you! The Star Wars lightsaber, new from Kenner. Balloons not included. Se state ridendo siete davvero delle brutte persone. Non è vero, mi son piegato dalle risate anch'io. Scrivetemi qualcosa al riguardo qui sotto nei commenti. Io sono andato a leggere i commenti presenti sotto il video della pubblicità che trovate qui su YouTube e fanno morire queste spade mosce. Bellissime. Anche il bello dei giocattoli vintage. Avete visto che i bambini andavano a colpire quei palloncini argentati che simulavano il remoto d'allenamento utilizzato da Luke sul Millennium Falcon. Tra l'altro da quello che ho letto la Kenner era abbastanza previdente, infatti incluse nella confezione anche dei kit per la ripalazione della lama. Inutile dirvi che ho provato a recuperarla, ma che ne è soltanto una attualmente su eBay in asta e ha superato i 200 euro. Non mi sembra proprio il caso, però sarebbe bello da avere. Con il successo poi dell'impero colpisce ancora nel 1980, la Kenner decise di reinventare la spada laser, questa volta rendendola molto più simile a quella dei film. Il nome era The Force Lightsaber e questa volta aveva un tubo in plastica lungo più di 90 cm. Due colori diversi, il giallo, sì c'era ancora il giallo, e il rosso di Darth Vader. E in base alla velocità dell'oscillazione queste spade simulavano un ronzio molto simile a quello del film. La produzione di queste continuò fino al ritorno dello Jedi, quando il giallo venne finalmente sostituito dal verde della spada di Luke. La trilogia si concluse, ma le spade laser tornarono nel 1985 in occasione di Droids, la serie animata. Ecco, qui le cose iniziarono a farsi un po' più interessanti, perché questa nuova spada aveva una clip per agganciarla alla cintura, era luminosa e aveva una lama estensibile. Peccato però per le dimensioni. Vi lascio l'immagine, più che una spada sembrava... un bugnale, un coltello. Qualcuno diceva le dimensioni non contano, ed effettivamente tra questi giocattoli qui è quello più raro, si trova con molta più difficoltà. Poi ci furono gli anni bui di Star Wars. Tra la seconda metà degli anni Ottanta e il 94-95, Guerre Stellari finì nel dimenticatoio, non era più nella memoria collettiva, e non c'erano più giocattoli in giro, non c'era merchandising. Fino all'entrata in scena dell'Asbro, che in realtà aveva acquisito la Kender già nel 91, ma poi dovette rinegoziare gli accordi con la Lucasfilm. Sborsarono un sacco di soldi, ma arrivarono nuovi giocattoli di Star Wars, e una nuova spada laser, che incredibilmente è qui. Dunque, unboxing. Devo fare con calma, perché non voglio rominare nulla, ma prendo qualcosa che risale al 1996. Questa, signore e signori, è la prima spada laser portata sul mercato dall'Asbro. Anche se sulla confezione c'è ancora scritto Kender, ma era già Asbro. Un piccolo pezzo di storia delle spade laser giocattolo. Anche Jig, commento per chi se la ricorda, ora giochi preziosi, ed è, l'avete già vista, la spada di Luke, che si estende fino a un metro, con i veri suoni elettronici del film. La faccio vedere da tutti i lati. Qui ci dice, curata nei minimi dettagli, veri suoni del film, e fascio luminoso di potenza. Questo è il retro. Scusate. Questo è il retro. E altri giocattoli dell'epoca. E poi sui lati il logo Guerre Stellari Star Wars. Sotto 1996. Ora, spero che mi perdonerete, ma questa scatola è ancora sigillata e non me la sento di aprirla. Quasi 30 anni e voglio mantenerla così. Ma vi lascio lo spot del 96 che mostra il funzionamento di questa spada e l'altra versione di Darth Vader. Now, fight for the galaxy with the incredible weapons of the Jedi Knights. The Luke Skywalker lightsaber and the new Darth Vader lightsaber. Both with blazing extendable light blades and three real movie sounds. Flash and strike. Star Wars lightsabers. Star Wars lightsabers. Better not include questo è un piccolo pezzo di storia e sono felicissimo di averla recuperata sigillata addirittura. Con l'uscita al cinema della trilogia prequel arrivarono altre spade laser quella a doppia lama di Darth Maul quella del Conte Duku nel 2005 quella di Anakin che cambiava colore da blu diventava rossa e arriviamo poi nel 2011 quando Hasbro porta sul mercato le lightsaber FX quelle che conosciamo ancora oggi quelle con l'illuminazione progressiva dei led all'interno della lama che ovviamente si sono evolute ulteriormente e continueranno sicuramente ad evolversi abbiamo visto quella che Disney sta realizzando con la lama che viene fuori direttamente dall'Elsa la cosa sicura è che la spada laser quest'arma elegante per tempi più civilizzati esattamente come nel 1977 continua ad affascinare piccoli e grandi come il sottoscritto se il video vi è piaciuto un bel pollice nell'insù è sempre gradito commentate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e che la forza sia sempre con voi qualunque età abbiate grazie a tutti grazie a tutti